La forma più pericolosa Soren Kierkegaard, 1813-1855, in L'Ora, dice La forma più pericolosa di indifferentismo e la più generale è quella di avere una religione determinata, ma di ridurla a una vana chiacchiera, in modo che sia possibile avere questa religione senza passione alcuna. Questa è la forma più pericolosa di indifferentismo, giacché con tale ombra di religione ci si illude di ripararsi dall'accusa di non avere religione. Perché? Commento. Perché molti indifferentisti si preparano alla religione della coscienza.